Taglio del nastro per la filiale della banca di Filotrano a San Biagio di Osimo che si è trasferita nei nuovi locali di via Alfieri 1 di fronte alla vecchia sede. La popolosa frazione al confine con il comune di Offagna da oggi può contare su una banca più grande con maggiori spazi e sale per la consulenza, oltre ai classici sportelli di ultima generazione. L'obiettivo di una nuova sede, previsto dalle piane industriali, è stato raggiunto nonostante il covid e la crisi economica perché proprio nei momenti di difficoltà occorre investire per rafforzare il rapporto con la comunità, non ne facendo mancare il sostegno alle famiglie e alle imprese. La banca di Filotrano è stata sempre particolarmente attenta nei confronti della città di Osimo, dove può contare anche sulla filiale di via Aldomoro, su quelle di Passatempo e Aspio e sui locali di via Cristoforo Colombo davanti al maxiparcheggio. Era il lontano 1995 quando vennero aperti gli uffici a San Biagio, che nel tempo è cresciuta, sia a livello demografico che economico, distinguendosi in particolar modo per la vivacità dell'intero comparto produttivo. L'istituto, che per primo ha creduto nella capacità di sviluppo della frazione, è stato ripagato dalla fiducia dei suoi abitanti e imprenditori e ha contribuito in maniera attiva alla sua crescita. Nell'anno in cui la banca di Filotrano, celebra i 70 anni dalla fondazione, ha voluto rinsaldare le sue legame con la comunità sanbiagese, realizzando una filiale più moderna e accogliente. Sì, questa è stata una volontà del CdA che io mi onoro di rappresentare. Faceva parte del piano industriale triennale e poi per motivi a tutti noi noti per il Covid è andata un po' più a lunga del dovuto. Oggi siamo qui ad inaugurare questa nuova struttura, siamo molto soddisfatti. Perché siamo soddisfatti? Siamo soddisfatti perché noi l'avevamo pensata in un modo ed è venuta fuori nel modo in cui la pensavamo. Diciamo che è una struttura nuova che dovrebbe dare quel tocco in più nei servizi, nelle relazioni, a tutta la clientela di San Biasio e dei comuni limitrofi. Presidente, 70 anni quest'anno, un importante traguardo per il vostro istituto, 70 anni di presenza proprio qui in Val Musone. È vero, 70 anni. Io dico sempre una frase, la storia non si cancella, il futuro si conquista. Che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo onorare chi 70 anni fa ha avuto l'idea di creare questa cooperativa e noi abbiamo il grande onore di portarla avanti con lo spirito e la voglia che 15-20 soci a suo tempo fecero questa cosa grandiosa. La sfida futura per la Banca di Filottrano è continuare a crescere senza perdere di vista i valori che caratterizzano il credito cooperativo. L'istituto intende contribuire allo sviluppo economico e sociale della Val Musone con la professionalità dei suoi collaboratori, con le nuove tecnologie e l'affidabilità dei suoi prodotti. La filiale è stata realizzata rispettando tutto questo e non dimenticando da dove è iniziato tutto, da quelle mani di contadini e artigiani che nelle 1952 riposero la loro fiducia e i pochi risparmi in quelle dei 20 soci fondatori. La nostra banca è nata come cassa rurale artigiana e quindi nella progettazione di questa splendida filiale abbiamo cercato di raggiungere proprio questo obiettivo, ovvero abbinare la modernità, la tecnologia dei servizi, aggiungendo ATM evoluti piuttosto che casse self e quant'altro al mantenimento della nostra radice e quindi della tradizione e questi quadri che sono il tema della filiale esprimono proprio questo, due mani che lavorano e quindi vogliamo continuare nonostante le tecnologie moderne dei servizi bancari che vengono collocati anche a distanza, vogliamo noi invece continuare anche a dare un servizio di consulenza, di relazione con la nostra clientela e quindi questa filiale più accogliente e più riservata perché all'interno ci sono diversi uffici con il quale la nostra clientela ha il modo di interlocuire con i nostri collaboratori e accedere ai servizi bancari di persona. Quindi abbiniamo le tecniche dei servizi moderni alla continuità con la relazione tra collaboratore e clientela che è la nostra principale caratteristica rispetto al resto del sistema bancario. Ecco Osimo è una piazza importante per voi, avete aperto qui a San Biagio nel 1995, c'era necessità di rinnovare, di ampliare come ci diceva lei gli spazi anche perché in la maggior parte i volumi di affari come istituto li fate proprio in questa piazza? La piazza di Osimo è importante per Filottrano, non solo è limitrofa ma la nostra crescita è stata una crescita insieme alla comunità sia di Osimo che di Filottrano. Basti pensare che abbiamo ben quattro filiali nel territorio del comune di Osimo abbiamo Aspio, San Biagio, Osimo in via Aldomoro e Passatempo, oltre ad avere anche una serie di uffici commerciali in via Colombo, sempre a Osimo. I numeri sono importanti, i nostri numeri sul comune di Osimo e quindi vogliamo continuare ad essere protagonisti su questa piazza. Ovviamente la filiale di San Biagio di Osimo, oltre al comune di Osimo, serve anche il comune di Offagna dove in passato eravamo presenti con la cassa rurale di Camerano che abbiamo poi assorbito. Il nostro consiglio d'amministrazione e la direzione hanno realizzato una struttura che coinvolge il cliente, intorno al cliente, dove gli strumenti che vedete tecnologicamente evoluti, rimangono comunque insieme a quello che è i nostri valori, ossia l'accoglienza, la disponibilità, quello che contraddistingue un po' il nostro mondo del credito cooperativo e il nostro istituto. Voi avete una squadra giovanissima, 35 anni all'età media, quindi grande disponibilità, grande voglia anche di aiutare, consultare e consigliare al meglio i vostri clienti e soci, perché la banca di Filotrano conta oltre 4.000 soci. Assolutamente, l'età media della mia squadra è 35 anni, quindi la filosofia è chiara, quella della nostra direzione e consiglio d'amministrazione, dare ai nostri clienti, ai nostri soci, gente disponibile ma anche giovane che riesce ad essere accogliente e sempre pronti e vicini alla nostra clientela. Gli spazi consentono anche una consulenza, possiamo dirla, con la massima privacy e la massima evoluzione nell'ambito del nostro istituto. Sono orgoglioso di guidare ovviamente questa squadra, questa è la realtà. Con prodotti interessanti che potranno conoscere meglio a partire proprio da lunedì, quando entrerà davvero in funzione questa filiale. Possiamo dire che poi le offerte e le possibilità che garantisce la banca di Filotrano sono innumerevoli per tutte le tasche e per tutte le tipologie di esigenze. Assolutamente, noi nel nostro staff abbiamo degli specialisti, ognuno dei quali ha un settore di appartenenza. Ovviamente ci sono io che sono il direttore che coordino i vari collaboratori, ma per ogni settore abbiamo un consulente specializzato, quindi nel settore fili, imprese, nel settore finanza e risparmio, settore assicurativo e questi spazi si adattano perfettamente al lavoro consulenziale. Quindi dal 17 ovviamente aspetto tutti i clienti, i soci e anche nuovi clienti che vorranno visitare questi spazi creati proprio per loro. Ciao! 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 Ciao!